Sono le ore 21.30, siamo partiti, avremmo dovuto prendere un treno alle 18 da Roma, invece ci troviamo in questo momento ancora a Termi, dobbiamo arrivare alla stazione, poi da lì si prenderà il tragetto per Spoleto e gli ultimi a scendere saranno le persone che dovranno andare a Forigno. Questo è Termi alle 21.30.